Dal capezzale alla testata del letto, il passo è breve nella storia di un commerciante bellariese, 68enne, che aveva nascosto i suoi risparmi in casa. A seguito di un incidente nel gennaio scorso e dopo essere stato molto male, aveva confessato ad un suo caro dei 100.000 euro risparmi di una vita, nascosti in un doppio fondo nella spalliera del letto. A questo punto probabilmente colui che poi ha messo a segno il furto è penetrato all'interno dell'appartamento, approfittando appunto dell'assenza dei coniugi, ha scovato il nascondiglio abbastanza facilmente e ha asportato questo denaro. La moglie ignara che il coniuge a seguito di un problema in banca nel 2008 avesse chiuso il conto e nascosti i loro risparmi in casa, ha scoperto di essere stata derubata da qualcuno il 30 maggio scorso. Dopo essere rientrata dall'ospedale verso le 22, aveva trovato tracce di scasso sia nella porta che nel letto. Non aveva detto nulla dell'accaduto al suo compagno e aveva asporto denunce ai carabinieri dicendo che era stata derubata di 7.500 euro. Successivamente, quando ha cercato di raccontare del furto al suo coniuge, che era stato due mesi in coma, questo gli ha confessato che nella testata del letto aveva nascosto i loro risparmi di un'intera vita. La donna a quel punto si è rivolta alla questura riminese. Il denaro che è stato recuperato da noi nella giornata di ieri e che poi attraverso questo recupero e gli ulteriori particolari che abbiamo acquisito ci porterà nel giro di qualche giorno a deferire all'autorità giudiziaria, in stato di libertà, l'autore di questo reato.